Buonasera, stasera vorrei proporvi poster di Claudio Baioni in una versione un po' più abbordabile perché la precedente che ho fatto era arpeggiata e in più aveva anche dei barret adesso vorrei fare una versione così, ritmata, per quello che si può fare perché è una canzone molto lenta eliminando quei pochi barret che ci sono facendo queste sostituzioni, al posto del Sol minore facciamo questo qui abbreviatissimo, questo mini barret di tre corde terza, seconda e prima al terzo tasto avendo cura però di suonare soltanto queste tre, altrimenti stonate e il Si minore lo sostituiamo con questo avendo cura anche in questo caso di con la mano destra suonare dalla quarta in giù le prime due non le dovete suonare altrimenti anche in questo caso andete a stonare la parte iniziale possiamo fare una cosa molto soft uno, due, tre ok e cambiamo accordo un, due, tre seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metro seduta con le mani in mano sopra una panchina fredda del metro sei lì che aspetti quello delle sette e trenta chiuso dentro il tuo pantò ok? anche se comunque anche in questo caso è molto soggettiva andrebbe bene anche una pennata soltanto perché è talmente lenta la canzone però provate a fare quello che vi ho detto io altrimenti fate una pennata soltanto allora andiamo a vedere i cambi accordi re minore seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metro la settima rimaniamo sulla settima seduto, aspetti quello delle sette e trenta e torniamo sul re minore chiuso dentro il tuo pantò qui cambiamo e usiamo il re settima un tizio regge attento alle istruzioni sul distributore andiamo sul sol minore questo semplificato sul distributore del caffè poi re minore ed un bambino che si tu quando diciamo tu fa la setti dentro a tu bini e ritorniamo sul re minore ok? seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metro sei lì che aspetti quello delle sette e trenta chiuso dentro il tuo pantò un tizio regge attento alle istruzioni sul distributore del caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un vigne ok? poi ricomincia allo stesso modo e l'orologio contro il muro segnalone dieci da due anni in qua il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall'umidità un poster che qualcuno ha già scarabocchiato mi settima c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via la 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 sette ritornello usiamo questo ritmo giù giù su giù su giù su giù giù su giù su giù quindi re maggiore mi minore la seguito dalla settima di nuovo re maggiore si minore qui quello semplificato mi settima la seguito dalla settima lontano andiamo a suonare il ritornello e andiamo a suonare lontano lontano e andiamo a suonare lontano 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 poi la canzone ricomincia sempre allo stesso modo e prosegue così questa è la versione semplificata ricordatevi che se volete la versione quella con l'arpeggio è completa con il barret c'è l'altro mio precedente video ci vediamo alla prossima grazie 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 grazie